Amici di Youtube ed Instagram, buon pomeriggio a tutti quanti, buon pomeriggio edizione giornaliera campioni d'Italia doppiamente stellati ancora un po' intasato con il raffreddore, mal di gola e adesso sta arrivando la tosse perché normale dopo il raffreddore arriva la tosse insomma, però ci siamo sempre, oggi siamo sempre oggi è il giorno dopo l'anniversario di Istanbul ma a quanto pare i sozzoneri, gli scappati di casa e l'associazione delinquere di Torino non fiatano, non sfottano, chissà com'è, non sfottano, che strano beh, diciamo che è anche un po' umiliante verso i loro confronti sfottere noi dopo le umiliazioni che hanno subito quest'anno quindi insomma un po' è anche imbarazzante per loro mettere becco ma vorrei dire che a oggi, che 11 giugno 2024 sia l'associazione delinquere di Torino dove rischia tantissimo sanzioni UEFA e andremo più in fondo su questa indagine perché comunque è un'indagine che richiede tempo e richiede soprattutto ricerca quindi andremo più in fondo ma ne abbiamo già parlato in questi due ultimi video e non ha un allenatore la Juve non ha un allenatore e siamo all'11 di giugno all'11 di giugno neanche gli scappati di casa sozzoneri ad oggi oltre che a non avere neanche un presidente, neanche un proprietario non hanno neanche l'allenatore ora, io vorrei dire a tutti proviamo ad immaginare se fosse successa una cosa del genere all'Inter che fosse arrivata all'11 giugno senza allenatore minchia chissà cosa avrebbero detto cioè, sarebbero scatenati i complotti ah ma l'Inter non ha un presidente sta per fallire Zang non si fa vedere non c'è l'allenatore ma quindi non si potrà iscrivere al campionato tutte le teorie dei loro complotti chissà cosa avrebbero detto quindi questa è solo da è una cosa da dire chiaramente è una cosa da dire comunque intanto volevo iniziare con le dichiarazioni bellissime di Frattesi dove continua a ripetere alla Repubblica l'intervista bellissima oggi dove dice io volevo solo l'Inter e l'ha ripetuto anche durante l'anno insomma questo fa capire anche la voglia che soprattutto lo spirito il senso di appartenenza che si è visto anche in campo soprattutto nel a parte aveva i due gol clamorosi che ci hanno portato alla gloria a perdere la voce a gridare come dei matti ma soprattutto allo spirito combattente che ha Davidino Frattesi oltre che ha una grande qualità in termini di possesso ma anche negli inserimenti si vede che è un giocatore che è tatticamente molto molto intelligente questo si capisce anche dal gol che ha fatto con la Bosnia su un bellissimo assist di chiesa e qui chi lo sa future connessioni nerazzurre ma ne parleremo tra poco ne parleremo tra poco quindi lui dice a maggio ho detto al mio agente che volevo sempre solo l'Inter qui insomma sono questo c'è da insomma da evidenziare che chi effettivamente vuole giocare nell'Inter e poi i risultati si vedono chi in passato ha scelto altre destinazioni ha scelto di fallire poco da dire questo è una cosa la volontà è la prima cosa in un professionista infatti si vede c'è poco da fare un po' come tornando a quest'estate che parlavamo dell'ex 90 dell'altra gente poi sì alla fine i risultati nebbene o ne male si vedono sempre ragazzi c'è poco da fare i nodi vengono al pettine e poi la bellissima domanda l'ho bloccata su tutti i social per quattro giorni ci prendiamo in giro che sia così esposta ah no sì perché scusami un attimo perché per quanto riguarda la sorella Chiara tra l'altro oltre che al fratello stavamo parlando prima delle grandi doti qualitative anche la sorella grandi doti di qualità devo essere sincero comunque le ha fatto effetto vedere sua sorella Chiara che festeggiava in campo la Coppa Italia della Juve l'ho bloccata su tutti i social per quattro giorni ci prendiamo in giro che sia così esposta non mi dà noia ognuno ha la sua vita non si può mettere nessuno sotto una campana di vetro questo è vero questo è vero però c'è anche da dire che qua adesso non voglio fare un discorso da da patriar di patriarcato però c'è anche da dire che voglio dire tu vuoi fare la mantenuta con i soldi di tuo fratello sangue del tuo sangue beh allora ecco magari gli stipendiati dell'associazione delinquere di Torino forse è meglio non frequentarli forse perché poi ti possono portare sulla retta via e quindi no sulla retta via sulla via sulla via dei furti e delle rapine della criminalità chiaramente da associazione delinquere di Torino quindi meno male che a quanto pare si sono lasciati quindi meno male che la sorella Chiara è ne è uscita indenne beh ma chi lo sappia Bissek è single Bissek è un bel ragazzo potresti presentarglielo comunque comunque questo è un altro un altro breve tema e arriviamo appunto alle voci di grandissime parole di frattesi e poi siamo sempre lì per quanto riguarda la nazionale anche lì c'è da dire perché è grandissimo gol poi è il miglior marcatore della storia dell'Italia di Spalletti perché da quando è arrivato Lucianone sulla panchina della nazionale il miglior marcatore è stato proprio Davidino Frattesi con 5 gol e comunque si vede soprattutto che quella tecnica lì te la possono dare lui e Barellino il centrocampo dell'Italia oggi è scarno di tutto cioè i centrocampisti dell'Italia a parte Barelli e Frattesi sì Pellegrini qualitativamente non è male ma ma siamo sempre lì la doppia fase non te la può fare cioè hai gli unici incontristi veri gli unici giocatori più completi che hai sono Barelli e Frattesi quindi secondo me Frattesi deve giocare titolare nella nazionale italiana infatti con l'Albania giocherà ma speriamo che il mister gli dia continuità in nazionale poi la difesa per quanto riguarda la difesa c'è quel punto di domanda sulla difesa dell'Italia degli europei beh io sono dell'idea che se tu hai la difesa più forte d'Europa italiana ovvero la difesa del Biscione campione d'Italia la difesa dell'Inter tu devi presentarti dell'Europeo con Acerbi Bastoni Darmian purtroppo Acerbi sta insomma pagando l'infortunio e quindi Buongiorno potrebbe prendere il posto poi anche lì ho visto Buongiorno il prezzo di Cairo 45 milioni una follia cioè ragazzi una follia 45 milioni e poi ci domandiamo perché il calcio italiano ha ridotto questo stato 45 milioni Buongiorno cioè a me piace come difensore tutto però ragazzi 45 milioni cioè poi rompono il cazzo perché Bastoni vale 60 milioni su transfer market cioè ma grazie al cazzo cioè ma se Buongiorno ne vale 45 Bastoni ne dovrebbe valere 200 ma di cosa parliamo quindi secondo me la difesa titolare dell'Italia dovrebbe essere Buongiorno centrale Darmian bracetto destro e poi Bastoni bracetto sinistro con Calafiori che potrebbe entrare comunque a me l'Italia quest'anno piace devo essere sincero a me i giocatori dell'Italia quest'anno piacciono però poi Spalletti è uno che comunque sempre è uno che predilige la difesa 4 quindi però Di Marco non può stare fuori da questa da questi 11 e la difesa deve essere quella dell'Inter punto con Buongiorno titolare per l'infortunio purtroppo per Acerbone e niente quindi la penso così comunque vedremo vedremo insomma vedremo all'esordio già con l'Albania sarà una partita che ci dirà di più quello sicuramente contro Jim City e Aslani due nostre conoscenze italiane anche una grandissima conoscenza nel Razzura ricordiamo che l'Inter è la squadra più rappresentata nell'Europeo insieme al City con mi pare quanti giocatori 13 giocatori in tutto l'Europeo parliamo di mercato parliamo di mercato quindi per quanto riguarda la priorità sul mercato l'abbiamo già siamo già a conoscenza la mia priorità è Gudmundson c'è poco da fare cioè ad oggi se c'è un reparto da migliorare oltre che la difesa che sicuramente l'età avanzata di Acerbone e De Vrij non aiuta è l'attacco è l'attacco perché serve quella mobilità davanti serve quell'imprevedibilità serve un giocatore che salta l'uomo serve un giocatore che dalla panchina entra e fa la differenza bisogna ripeto ancora alzare il livello qualitativo della panchina e Gudmundson è quello che fa per noi spuntano dei nomi spuntano dei nomi che alcuni sono nomi messi lì perché riempire delle pagine come quello di Di Bala perché Di Bala che ormai è il Lavezzi cioè ormai Di Bala è il Lavezzi all'Inter è il Berardi alla Juve ormai sono quelle telenovela che non finiscono più Di Bala chi lo prenderebbe ad oggi voi trovate in una squadra competitiva che vorrebbe Di Bala nella loro rosa nessuno nessuno io non lo voglio Di Bala innanzitutto perché non ti garantisce integrità fisica innanzitutto perché non viene a fare la terza e quarta punta all'Inter cioè non accetterebbe mai di fare la riserva ma assolutamente e terza cosa non è quello che ci serve quante partite ti può garantire Di Bala 12-13 non scherziamo non scherziamo e ad oggi parliamoci chiaro se andiamo a vedere la scelta di Di Bala di andare alla Roma che è stata una scelta a ribasso e oltre alla Roma nessuno l'ha cercato perché questo è anche da dire la verità quindi Di Bala è un giocatore che a me piace tantissimo tecnicamente fortissimo se vogliamo parlare dei suoi piedi del suo mancino è uno dei giocatori più forti del campionato ma siamo sempre lì teoricamente tecnicamente ma poi c'è il campo poi c'è il campo che ti dice la verità che il rettangolo verde poi ti dice insomma ti dà il giudizio finale e le due stagioni di Di Bala la Roma meglio la prima sicuramente ma sono state due stagioni al di sotto possiamo dire delle aspettative molto al di sotto Di Bala io non lo vorrei non lo vorrei ma proprio per una questione totale anche di spogliatoio a parte che poi la clausola della Roma è di 20 milioni cioè sono troppi per un 31enne poi che ti chiede un ingaggio non è che ti chiede noccioline cioè quindi Di Bala ma poi chiaramente non c'è nessuna voce concreta però era solo da commentare visto che è uscita la voce che poi è stata subito smentita quindi non non c'è questo problema e poi c'è ancora il nome di Chiesa il nome di Chiesa che è un nome che si sta facendo che si sta facendo io posso dire che per la Juve che è messa malissimo sui conti è peggio per loro che quest'anno non trovi un'altra soluzione un'altra destinazione l'ex Fiorentina però se l'anno prossimo dovesse andare via a zero beh Marotta lo vuole prendere questo è poco come sicuro Marotta farebbe carte fa se deve prendere Chiesa ora Chiesa tatticamente dove lo metti all'Inter beh sicuramente a fare la punta perché tutta fascia non lo può fare difensivamente non lo puoi mettere tatticamente molto indisciplinato perché la verità dov'è che lo andresti a far giocare uno come Chiesa davanti quest'anno non ha fatto neanche malissimo alla Juve perché alla fine nel bene o nel male con un non allenatore in panchina ha fatto 9 gol se non sbaglio quest'anno che non sono pochi giocando poco alla fine non ha giocato sempre con gli infortuni e tutto quanto c'è da dire che stesso discorso per Dybala non è uno che ti garantisce integrità fisica seconda cosa trovate in voi un giocatore che dopo i crociati è tornato a quello di prima quasi nessuno basta vedere Gosens basta vedere anche Diego Jaló che stava parlando anche di Jaló no? questo inverno ma quando ti fai un crociato siamo sempre lì non non torni mai alla tua al tuo prime moments ma poi Chiesa cosa ha dimostrato negli anni cioè l'europeo che ha fatto tanta roba ok sicuramente però è stata è stato l'apice dopo non ha più fatto niente io non lo vorrei mai Chiesa anche perché non sposa i valori dell'Inter neanche Quadrado li ha sposati eppure eppure ha saltato vabbè ma siamo sempre lì però per quanto riguarda Chiesa è un nome che si potrebbe fare l'anno prossimo quest'anno chiaramente e poi ha un valore di mercato ad oggi che è sempre in scadenza di 35 milioni perché ripeto ancora che il contratto di Chiesa scade giugno 2025 la Roma era sul giocatore ma ha ritenuto l'offerta troppo alta e il Napoli ha fatto le sue valutazioni però e Conte lo vorrebbe però anche lì sta facendo qualche valutazione in termini dirigenziali quindi i nomi sono sono dei nomi accostati un po' per riempire le pagine quello di Chiesa un fondo di verità c'è anche perché nessuno ne ha parlato di nessun giornale ne ha parlato di Chiesa quindi c'è da stare attenti però comunque ripeto ad oggi il giocatore che soddisfa tutte le le richieste chi è Albert Gudmunds non c'è poco da fare quest'anno 35 partite 14 gol 4 assist media minuti gol 216 insomma un un giocatore che fa il caso nostro che secondo me in mano al demone fa gli sfracelli ed è quello che ci manca in assoluto quello che ci manca ora è normale 30 milioni più bonus andreste a fare una 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 formula stile frattesi bilancio del Genoa deve fare più 70 2025 se dovesse vendere Martinez in questa sessione di mercato sarebbe eh il costo andrebbe a bilancio 2024 quindi insieme a Dragosin e quindi se guardiamo il bilancio le come dire le le esigenze del Genoa il Genoa vorrebbe piazzare sia uno che l'altro ed è qui il titolo della gazzetta di oggi Inter partita doppia Blitz col Genoa Gudmundsson più Martinez in un colpo solo e qui chiaramente è normale qui vedere un Inter che dopo che ha vinto lo scudetto fa due colpi dal Genoa un po' viene un po' no nei ricordi eh l'Inter del 2009 di quell'estate 2009 appunto dell'estate pre-triplete dove andammo a prendere Tiago Motta e Milito dal Genoa fare un doppio affare un doppio affare dove anche lì comunque dovevi alzare il livello della rosa e poi con questi due acquisti che sono rivelati importantissimi quasi fondamentali poi per il raggiungimento di quegli obiettivi parzialmente per Tiago Motta e chiaramente eh totalmente per il principe del Bernal Diego Alberto Milito e quindi un po' ti fa venire quel pensiero doppio colpo dal Genoa un po' come in quel 2009 no? Allora beh per Gudmunds lo sappiamo che c'è un debole io lo prenderei ad occhi chiusi farei carte false per prenderlo anche se non siamo la Juve però per quanto riguarda la situazione portiere io non vedo ancora non capisco questa frenesia cioè a questo punto allora se devi investire quei 20 milioni per Bento 15 per Martinez 13 14 per Okoy e lì nomi che si sono fatti ma a questo punto vai a investire sulla difesa cioè allora a questo punto è lì che devi andare a investire perché in difesa sappiamo che devi aggiungere non togliere le taglie di De Vrij gli infortuni più più frequenti e anche la grande e l'aumento appunto delle taglie a Cerbi serve andare a puntellare il reparto centrale della difesa poi va bene Carlos Augusto può scendere può scendere nei tre dietro magari il mister si decide di far mettere di far giocare Biucana a sinistra anche se non penso proprio perché l'anno prossimo ve lo devo dire è stata solo una questione numerica quella di mettere Biucana le ultime partite a sinistra giocherà a destra Tejon e sarà molto probabilmente forse anche il titolare l'anno prossimo no? con la cessione di Dumfries quindi cioè non è non io non capisco questa frenesia cioè ragazzi non è che Octree arriva e ti dà già le garanzie per prendere Bento e ti per prendere il mercato deve essere sempre un mercato creativo a costo zero non cambia da quel lato lì quindi è normale che se devo prendere Gudmundson devo aspettare i soldi o di Carboni o di Dumfries detto questo con un Arnautovic che deve rimanere non vedo perché devo leggere ancora se arriva Gudmundson deve partire Arnautovic mi ricorda quella 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 favola che sentivamo ah beh deve entrare Di Bala deve uscire Sanchez ma non ha senso non ha senso cioè capito ci ricordiamo oppure quella favola là deve entrare quello deve uscire Correa ma non ha senso cioè sono cose che non hanno senso perché se io devo vendere Arnautovic 5 milioni chi lo vuole la Fiorentina ok che vantaggio mi darebbe nell'andare a prendere Gudmundson non ha senso sta cosa non ha senso quindi nessuno è bloccato da nessuno perché c'è da dirlo e però per quanto riguarda portiere ripeto ancora va bene la programmazione perché è vero una società forte deve programmare è vero però attenzione programmare vuol dire in questo momento se tu hai un Sommer che sicuramente l'anno prossimo farà il titolare e farà il titolare penso anche tra due anni devi programmare a lungo termine non è come avere Andanovic a 40 anni che ti fa gli ultimi due anni è ben diverso quindi tu avevi un Andanovic che ti faceva gli ultimi due anni hai colto un'occasione importantissima di Onana parametro zero dall'Ajax e l'hai preso senza senza guardare nel SNMA e hai fatto bene hai fatto bene poi grandissimo grandissima stagione di Onana 60 milioni venduto ok plus Valenza tutti contenti ma adesso non sei nella situazione di cercare un una come dire di cercare costantemente sfrenatamente una un'alternativa Sommer un vice Sommer non serve a questo punto rimango della mia idea cosa costa mettere come secondo Filip Stankovic cosa costa mettere come secondo Filip Stankovic l'anno prossimo io non so adesso come sta ragionando la dirigenza ma poi quello che fa Marotta ha ragione nel senso se se Marotta sceglie non si deve contestare nulla perché non siamo direttori sportivi ci mancherebbe altro noi siamo tifosi ma il fatto è che mi sembra strana proprio sta voce di Martinez 15 milioni cioè io adesso che ho Sommer che mi fa il titolare l'anno prossimo e l'anno dopo ancora devo cogliere semmai un'occasione un prospetto importante che prendo 5 milioni uno che prendo poco e mi rende mi rende 100 cioè Bento non è questo investimento Bento ha 25 anni lo vai a pagare 20 milioni e ha una clausola con l'Atletico Paranaense di 60 milioni ed è il titolare del Brasile come come faccio a prenderlo e a metterlo secondo di Sommer l'anno prossimo c'è poco senso dietro c'è 15 milioni per Martinez che è un signor portiere ma sono tanti secondo me 15 Okoye Okoye forse devo essere sincero tecnicamente tra questi tre è quello che mi piace di più Bento è fortissimo ma Bento secondo me ad oggi non è la portata nostra cioè devi metterti sempre nell'Ottia che stiamo facendo il mercato sempre creativo sempre a zero non è che puoi permetterti cioè ad oggi la priorità è l'attacco e poi la difesa la porta e poi a trovare chiaramente il sostituto di Doomfries e poi la porta non è una priorità in questo momento non è una priorità quindi non lo so io ripeto non lo so come sta ragionando la dirigenza io non non metto becco sicuramente non metto becco però questa frenesia nel cercare il portiere non ha secondo me ha poca importanza adesso e poi parlando anche lì di Dybala no sempre ritornando alla questione cioè se devo prendere uno giocatore di 31 anni che mi garantisce 18 partite 13 partite non contento di voler fare la terza quarta punta sai che c'è a sto punto chiamo Carboni cioè Carboni che ti garantisce più partite più giovane grande qualità certo lì vai a svalutare il tuo cartellino però Carboni ragazzi è un giocatore di cui tu non ti puoi assolutamente privare è un giocatore fortissimo anche lì tutti mi vengono a dire ah ma dalla primavera chi è che uscirà mai di così forte non è mai uscito nessuno della mia vita ma Carboni ma nessuno però è stato convocato a 18 anni dalla nazionale maggiore nessuno è stato convocato ragazzi diciamoci le cose come stanno Almonza si vede che è un altro passo da come tocca la palla è un prototipo di giocatore importantissimo è un diamante grezzo e va coltivato non è come Casadei non c'entra niente Carboni è di un'altra pasta quindi io non lo venderei mai vedremo cosa farà la dirigenza certo che se devo prendere Di Bala a 31 anni pagandolo 20 milioni ma Carboni tutta la vita ma Carboni non pago un cazzo cioè a sto punto mi tengo Carbone quindi va bene e poi c'è il e poi attenzione ragazzi qua udite udite perché oggi mi sono svegliato ho detto cazzo apro il telefono vedo la notizia derby di mercato per Correa faccio no vabbè no ha detto minchia vuoi vedere che il Milan vuole Correa minchia derby di mercato incredibile vuoi vedere che Fonseca è il primo pupillo che chiede proprio il Tucu no ha detto no vabbè ma mi sembra di sognare mi sembra di sognare invece invece parlavano sì di un derby ma del derby turco del derby turco no visto che piace sia al Fenerbace del grande Cioce Murigno e anche al Galatasaray il Tucu piaceva anche alle Studiantes a River Plate in Argentina però poi poche conferme sono arrivate le piste si sono raffreddate anche il Como ha avuto questo interesse tutto quanto tra l'altro il Como che è interessatissimo anche a Sanchez e in teoria quello che si presagisce è che sono arrivate delle offerte dalla Turchia da 5 milioni più bonus e l'Inter si spingerebbe attorno ai 10 io dico attenzione non facciamo cazzate perché se questi già ci offrono 5 milioni più bonus io chiuderai l'affare cioè forse qui non ci rendiamo conto perché liberarsi di Correa subito così 5 milioni più bonus cioè sarebbe proprio un regalo dal cielo sarebbe veramente un regalo di Natale anticipato estivo ma io dare via anche a 5 milioni non mi interessa ma tutta la vita per evitare minus valenza lo vogliono dare via 10 5 più bonus anche se arrivi a 7 8 fuori dai coglioni ma non scherziamo ragazzi non scherziamo non scherziamo cioè 5 milioni ad oggi per Correa sono una manna dal cielo ed è per quello che dicevo Arnauto avrà più mercato di Correa infatti si sta dimostrando il tutto detto questo ragazzi la l'edizione può concludersi qui noi ci vediamo al prossimo video ragazzi mi raccomando un like un'iscrizione al canale sempre forza inter mi raccomando nei prossimi caricamenti sempre attivi like iscrizione al canale e gruppo telegram e instagram sempre presente sono anche su islam quindi un like e un'iscrizione non guasta un follow neanche su instagram ciao ragazzi e buon pomeriggio a tutti a tutti